Recentemente Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Australia e Giappone hanno lanciato congiuntamente la cosiddetta dichiarazione sul futuro di Internet, che nonostante la forma non può nascondere l'essenza delle volontà politiche degli Stati Uniti e di questi altri paesi sulla questione Internet, cioè il loro intento di tracciare le linee ideologiche, di incitare alla divisione e allo scontro, di infrangere le regole internazionali e di cercare di imporre i propri standard agli altri. Questa cosiddetta dichiarazione è l'ultimo esempio del tentativo di dividere e di provocare lo scontro nel cyberspazio. La dichiarazione sul futuro di Internet afferma di essere impegnata per un Internet globale e interoperabile, ma gli Stati Uniti hanno abbandonato l'uso di piattaforme multilaterali, come per esempio le Nazioni Unite, e sono desiderosi di impegnarsi in vari piccoli circoli, cercando di tracciare linee ideologiche e di utilizzare leggi e regolamenti familiari basati su gruppi di potere per minare i principi della governance globale di Internet. Faccio alcuni esempi di come gli USA intendano il futuro di Internet. La dichiarazione sul futuro di Internet afferma che la tecnologia digitale non dovrebbe essere abusata ai fini di una sorveglianza illegale e che i dati personali dovrebbero essere ottenuti in base alla legge e nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani. Tuttavia gli Stati Uniti hanno effettuato per molti anni e su larga scala il sistematico e indiscriminato furto di informazioni e dati attraverso Internet, danneggiando seriamente la privacy degli utenti di Internet in tutto il mondo e calpestando i principi internazionali dei diritti umani. Anche i leader di alcuni Paesi che partecipano alla dichiarazione non sono immuni da questo comportamento. Sempre la dichiarazione sul futuro di Internet dichiara che l'uso di Internet per operazioni di informazioni segrete in altri Paesi dovrebbe essere evitato. Ma gli Stati Uniti hanno diffuso informazioni false per molti anni, interferendo arbitrariamente negli affari interni e persino sovvertendo i governi di altri Paesi. Inoltre la dichiarazione sul futuro di Internet afferma che tutti i tipi di aziende si possono innovare ed evolvere in un ecosistema eco-eco-competitivo e possono entrare in concorrenza in base ai propri vantaggi. Tuttavia alcuni Paesi, in particolare gli Stati Uniti, senza alcuna prova, hanno abusato delle ragioni della sicurezza nazionale per reprimere e costringere le aziende di altri Paesi e hanno colto l'occasione per implementare il proprio sistema immaturo. Ancora la dichiarazione sul futuro di Internet afferma che i governi di tutti i Paesi dovrebbero evitare di compromettere l'accesso internazionale a Internet, ma gli Stati Uniti hanno preso il comando nel mondo annunciando che il cyberspazio verrà utilizzato come un nuovo campo di battaglia e che la frontiera di distribuzione di cyberpotenza militare sarà effettuata nei Paesi interessati. Questo significa mettere in pericolo la sicurezza dell'infrastruttura di altri Paesi. Non molto tempo fa un ex alto funzionario degli Stati Uniti ha apertamento chiesto attacchi informatici su altri Paesi. Infine, la dichiarazione sul futuro di Internet afferma anche di sostenere il lavoro di piattaforme multilaterali come quella delle Nazioni Unite, ma il suo stesso contenuto è incoerente con le regole formulate dalle Nazioni Unite perché introduce artificialmente l'ideologia nelle questioni di sicurezza informatica. Quello che voglio sottolineare è che la strada intrapresa dagli Stati Uniti non importa come sia confezionata è in realtà una nuova bottiglia di vino vecchio. Gli Stati Uniti hanno usato la democrazia come scusa per trasformare il già impopolare piano Internet pulito e hanno cercato di concentrare il potere in un piccolo circolo chiuso ed esclusivo. Il cyberspazio è uno spazio di attività comune per l'umanità e il futuro del cyberspazio dovrebbe essere controllato congiuntamente da tutti i Paesi del mondo. Tutti i Paesi dovrebbero rafforzare il dialogo e la cooperazione, lavorare insieme per costruire una comunità del destino nel cyberspazio. Facciamo appello ai Paesi interessati a tornare al processo inclusivo di consultazione, di co-costruzione e condivisione da parte della comunità internazionale, di ritorno a piattaforme multilaterali come le Nazioni Unite, a discussione congiunta alla formulazione delle regole internazionali per Internet e governance digitale che riflettano la volontà delle parti, a rispetto degli interessi di tutte le parti e congiuntamente alla possibilità di stabilire un vero sistema di governance globale di Internet multilaterale, democratico e trasparente per costruire uno spazio digitale tranquillo e sicuro, aperto, collaborativo e ordinato.